Operazione antidroga nelle prime ore dell'alba di questa mattina che ha interessato le province di Caltanissetta, Agrigento e Catania. La squadra mobile di Agrigento ha eseguito una ventina di misure cautelari fra Licata, Gela, Campobello di Licata e Canicattì. L'inchiesta, che come detto si estende anche nella zona di Catania, ha permesso di portare alla luce un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. Sono state 25 le misure cautelari firmate dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo su richiesta della locale direzione distretto l'antimafia e seguite dalla squadra mobile della Città dei Templi.